Non è solo la carenza cronica di personale a tenere banco all'interno del carcere Campanello di Ariano, struttura sempre più dimenticata e non più considerata modello e di massima sicurezza come negli anni 80. Oggi la situazione è cambiata notevolmente, mancano persino suppellettili. La CGL si è vista costretta a portare un carico di sedie. Noi come Funzione Pubblica CGL di Avellino stiamo donando a titolo gratuito autorizzato, ovviamente abbiamo mandato una missiva per quanto riguarda queste sedie perché all'interno delle sezioni detentive sono prive di sedie oppure malfunzionante e mal ridotte le sedie che sono presenti a tutt'oggi. I disagi sono notevoli, pian piano stiamo cercando di avere un colloquio con il provveditore per attivare la direzione affinché ci sia una convocazione per poter cercare di risolvere quelli che sono i problemi dell'amministrazione locale.